io come store supervisor insieme ai miei colleghi quindi l'assistant store manager e lo store manager devo cercare di tenere sotto occhio tutto il negozio quindi l'andamento dei clienti far sì che siano sempre ben seguiti se possibile dalla persona giusta di noi che magari ha più competenze su un determinato ambito aiutare i nuovi ragazzi che arrivano cercare di dargli quella competenza che io ho ricevuto da altri e quindi adesso mi fa piacere darla loro per aiutarli a essere più autonomi dare un bel servizio è una cosa molto importante secondo me perché voglio che si appassionino come lo sono io chi vuole approcciarsi a North Face deve assolutamente aver voglia di mettersi in gioco di diventare parte del nostro gruppo di lavorare con noi di stare qui tutti i giorni insieme a noi fare il meglio per i clienti vivere bene ed essere contento di quello che fa bisogna sempre avere una certa voglia di crescere se non si chiede sempre di voler migliorare secondo me dopo un po ci si appiattisce e questo non è assolutamente un brand o uno store in cui sedersi rilassarsi bisogna sempre continuare ad andare avanti guardare avanti puntare in alto sono Stefano e sono lo store supervisor del negozio North Face di Milano in alto sono Stefano e sono lo store